Il PD con il capogruppo Pasquale Infante, i consiglieri Francesco Rizzo ed Antonio Cuomo interrogano l'amministrazione sulle tasse. Nella nota scrivono. Sono stati notificati numerosi avvisi di accertamenti relativi alla TARES e alla TARES per le annualità 2011-2012, prescritti 2013-2014-2015, che molti di questi avvisi sono da ritenersi annullabili, in quanto nella stragrande maggioranza dei casi non è stata effettuata né dalla SOCET né dagli uffici comunali alcuna rilevazione oggettiva delle superfici dei fabbricati, oggetto della pretesa o della relativa destinazione degli stessi. Nei riportano i dati catastali dell'immobile oggetto di tale tasse e, soprattutto, a che titolo viene richiesto al contribuente il pagamento della TARES o della TARES per le annualità pregresse? I consiglieri rivendicano che sono già state riscontrate da centinaia di contribuenti e prontamente segnalate agli uffici su tali avvisi numerose irregolarità, anomalie, incoerenze e inesattezze, che questi avvisi annullabili, inesatti e errati stanno creando notevoli disagio agli contribuenti ebolitani, costretti a fare ore di attesa per farsi sistemare gli avvisi di accertamento per importi non dovuti o inesatti. Chiedono all'amministrazione quali iniziative ha intrapreso per portare a soluzione tale problematica, se ritiene opportuno provvedere a rivedere questi annullabili, errati o inesatti con il personale comunale ed eventualmente annullarli in autotutela, evitando i cittadini inutili vessazioni, preoccupazioni e perdite di tempo.